Stai cercando una lavatrice che possa garantirti ogni volta un bucato perfetto senza compromessi e senza sprechi? Ho la soluzione giusta per te! Le nuove lavatrici Serie 8 di Bosch si prendono cura del tuo bucato con un occhio di riguardo sempre rivolto all'ambiente. Sei curioso di sapere perché? Continua a guardare questo video! Le lavatrici Bosch offrono un'efficienza energetica superiore del 20% rispetto alla massima classe energetica A. Sorprendentemente efficienti, non trovi? Ma non è finita qui! Grazie alla tecnologia IDOS, il sistema di dosaggio automatico intelligente di detersivo e ammorbidente puoi risparmiare acqua e fino al 38% di detersivo. Oltre a risparmiare risorse impreziose, le nuove lavatrici con IGN Plus rimuovono efficacemente germi e batteri più comuni già a 40 gradi. Le lavatrici Bosch assicurano risultati di lavaggio sempre perfetti e rendono più semplice e rapido il processo di stiratura grazie al programma Iron Assist che utilizzando il vapore riduce le pieghe dei capi asciutti fino al 50%. Così puoi risparmiare tempo prezioso e dedicarlo alle cose che contano veramente per te. E grazie all'app Home Connect puoi gestire la tua lavatrice e tutte le sue funzioni anche da remoto, avere programmi aggiuntivi di app, scaricare ulteriori programmi e aggiornamenti del sistema e ricevere comode notifiche sul tuo smartphone, smartwatch o tablet. Vuoi saperne di più? Le nuove lavatrici serie 8 di Bosch ti aspettano nei nostri store e sul sito Bosch. Tante soluzioni per una vita sana e sostenibile con Bosch!